Ci parli ancora con i tuoi amici? È complicato. Quando ci siamo trovati insieme, eravamo persone diverse. Nonno Eddie. Anthony. Loro sono Marta e Bethany. Lui è il nonno di Spencer. È un piacere. Buongiorno. Scusate il disturbo. Non siete voi, lui disturba. Milo Walker. Avete visto Spencer? Credo che sia entrato. Andiamo a prenderlo. Tu sei completamente pazza. Non abbiamo neanche scelto i personaggi. Odio questa parte. Sentito qualcosa? Ce l'ha, Spencer. Cosa? Chi sei? Oh mio Dio. Tu sei il nonno di Spencer. Siamo in Florida. E tu? Milo Walker. Sono morto e sono diventato una specie di piccolo boy scout muscoloso. Siamo morti? Bethany? No, no, no. Fridge? Sono il vecchio ciccione. Non è possibile! Blanca non mi fa male adesso. Guarda che cosce. Guarda che cosce. Guarda che cosce. Ok, abbiamo qualche problemina. Il gioco è rotto. Allora è un gioco. Io non ci sto. Non mi va. Benvenuti a Jumanji! La prossima avventura è più impegnativa. E ricordate, il futuro di Jumanji è nelle vostre mani. Ho una domanda importante. Chi è Jumanji? Lui è il figlio di Barbara? Moriremo. Siamo già morti? Siamo all'inferno? Lo sapevo. Oh mio Dio. È tutta un'altra storia! Dovete avere gli occhi anche dietro alle vostre squadre! Ma che diamine è? Che diavolo è? Le tue forze e le tue debolezze. Bollente intensità. Alla faccia stupida che fai? E hai un attacco di cuore. Respira! Respira! Mi sei bloccato il lato sinistro. Eddie! Mi sei bloccato il lato sinistro.